Un risveglio strano, un risveglio triste, quello di Nusco dopo la rapina nella villa dell'ex presidente del Consiglio e oggi sindaco di Nusco, Cirieco De Mita. In tanti hanno espresso solidarietà, ma in tanti hanno anche messo in luce le difficoltà rispetto ai tanti furti che si registrano in questa settimana, negli ultimi mesi, negli ultimi anni in Alta Erpina. È un qualcosa che non può più essere sopportato. In tanti hanno chiesto un intervento più forte per tutelare questa zona di territorio della provincia di Avellino che fino a qualche anno fa era una vera e propria isola felice. Ma adesso ascoltiamo i cittadini di Nusco. Comunque la gente ha paura. Di fatti un paese come Nusco, che è stato sempre un paese normale, diciamo, e negli ultimi tempi, come in Nusco, come in tutti gli altri paesi, ci sono stati furti quasi tutte le notti e ognuno si ha messo pure l'allarme, però non si sa da dove vengono. Questo è un punto interrogativo che stanotte poi hanno rubato dal presidente De Mita. C'è pure da pensare come sono entrati, con quale abilità. Ma questi che hanno rubato da me, secondo me, dal presidente De Mita, sono professionisti. C'è stato un furto a casa del presidente De Mita. Ho capito, ma io non ne posso dire niente, che ti voglio dire. Mi dispiace, posso dire mi dispiace. Però sono cose che succedono. Non è che è la prima volta che qualcuno è andato a rubare a casa degli altri. Mi sembrano un po' strano perché la villa, penso che sarà la più sicura di Nusco. Questo è tutto. Comunque se non c'è la certezza della pena, non si va avanti. Purtroppo siamo immersi di questi furti. Spesso sento che succede, insomma. Anche nelle campagne ci sono stati questi episodi di furti, sì. Sono successe cose straordinarie in questi mesi a livello di furti e di altri. Evidentemente sono persone organizzate o temerari o persone che non immaginavano che fosse De Mita, hanno visto una villa e sono entrata. Non so che dirlo. Comunque la situazione è sempre più difficile. Beh, è difficile per tanti altri motivi. Stiamo attraversando una fase difficile in Irpinia per tante ragioni, tra cui anche questo allarmismo dovuto a queste incursioni che arrivano un po' da altre parti. Insomma, è un momento difficile. Grazie. 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 Grazie.